salve a tutti da casa del papi vi facciamo vedere come abbiamo apparecchiato i gattini trovati ieri a priverno recuperati ieri a priverno diceva perché l'avete messi in gabbia perché rega io qui fuori c'ho i cani grandi che se vedono i gattini così e corrono dietro e non mi pare una cosa bella non accorre tutto il giorno presso i gattini allora zomax il negozio di priverno ci ha messo a buon prezzo questa cuccia che costava di più ma ci ha detto guarda 50 euro ve la do e stiamo facendo anche una raccolta fondi e nuova nuova c'è ancora il prezzo attaccato e per sostenere questa spesa quindi chiunque avesse desiderio di far parte di questa cuccia di questa gabbiotta di questa cosa per i gattini può andare la zomax e lasciare la propria offerta per la cuscia per le altre cose che naturalmente poi ci serve non vi preoccupate voi fateci le vostre donazioni poi penseremo noi dove andarle a posizionare i due piccolini che sono maschi e una femmina sono davvero impauriti tanto impauriti amori miei io capisco tutta la situazione ma l'abbiamo dovuti mettere per forza in sicurezza perché dove stavano non potevano stare troppo vicino alla strada iniziano a diventare grandi e si avvicinavano spesso alla strada abbiamo soprannominati i nostri angeli dagli occhi blu perché hanno gli occhi blu io voglio piano piano aprire la telefonata ha bloccato tutto perché qualcuno chiede già dei gattini io voglio mettere la mano piano piano dentro ve li voglio far vedere bene quanto sono belli i miciotti questi sarabbiano lo so guardate che belli lo so che sarabbiano allora questo è il maschietto e lì sotto c'è la femminuccia che volevo far vedere guardate la femminuccia i piccolini recuperati dall'italia quattro zampe ollus che cercano una casa sono ovviamente impauriti tanto impauriti tanto e dobbiamo tenerli in sicurezza perché sono i nostri cani che corrono dietro statele zitti sti delinquenti gattoni forever proprio guarda sono buoni e sono dolci bellissimi italia quattro zampe ollus la voce di tanti pelosetti del mondo chi vuole può contattarci attraverso il nostro numero whatsapp grazie a tutti